buongiorno ragazzi benvenuti in questa nuova clip che vi sto facendo sempre da Valladolid oggi sono andato a vedere un nuovo cenote, il cenote Oxman che è molto vicino agli ultimi che vi ho fatto vedere, non si può raggiungere con Collectivos a meno che non sia della gente proprio che viene qui perché purtroppo è un luogo un po' nascosto ecco abbastanza isolato però con 70 pesos quindi un 3 euro circa si può raggiungere tranquillamente questo posto che probabilmente il cenote che preferisco in questo momento di tutti quei pochi che ho visitato si può fare anche una cosa speciale si può fare un tuffo aggrappandosi e adesso vi mostro il cenote aggrappandosi ad una a una corda che c'è lì e si può buttarsi in questo in questo cenote fantastico adesso ve lo mostro e poi vi faccio vedere insomma io il sottoscritto che si butta facendo il salto il salto speciale ecco allora ci sono due persone in questo momento il prezzo per l'ingresso 80 pesos si trova in un'azienda in un hotel una sorta di di villaggio ecco ed è veramente curato benissimo bellissimo si vede proprio che è una cosa molto molto curata ci sono anche tutti i salvagenti gratis per chi non sa nuotare e poi ci sono tutti i pesci come vi ho già mostrato non so se li vedete tutte quelle cose nere che stanno andando ecco quali sono tutti i pesci però questo è il senote ho messo poco dietro di me per questo mi vedete scuro che bello guardate che bello sopra è aperto metto fuoco ecco e questo è tutto il senote cammino verso l'altro lato mostrandovelo poi vi faccio subito vedere il salto che farò insomma guardate cioè trascorrere qui qualche ora e ripeto un'altra volta è mattino non è pomeriggio perché se venite quel pomeriggio vedrete tutto un altro contesto per via della gente dei pullman di quelli che vanno a siccenizza che è qui a neanche un'ora di strada ok e questo è il senote scusate se sto facendo il video in verticale però dopo seguirà il video del tuffo sempre in verticale perché lo preferisco bene ragazzi benissimo senote da favola questo senote oxman tanta roba adesso vi faccio vedere come mi tuffo perfetto ragazzi mi sto per buttare con questa altalena del senote bellissimo adesso vi mostro un po come si fa e fatelo anche voi se un giorno venite qui ok un saluto di cacca che ho fatto la prima volta adesso riprovo un'altra mi aggancio in maniera diversa vamos bene 1 2 3